Abbiamo deciso di metterci in gioco, vorremmo portare la politica a livello dei cittadini. Vorremmo che i cittadini riprendessero in mano un po' le sorti della città e quindi anche venisse chieste ai cittadini se vogliono o meno di grandi opere o certe scelte prese. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.